salve siete sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana sul nostro canale continua la stagione dei pantaloni di tendenza nella prima parte abbiamo già fatto la modellistica del pantalone numero 2 in questo video andremo a tagliare il tessuto e fare la prova sinceramente non sono sicura per quanto riguarda la larghezza ma in ogni caso avevo preso una larghezza media 27 cm per la gamba sull'orlo dopo la prova deciderò cosa fare il mio tessuto è un tessuto abbastanza sostenuto e un cotone a righe il mio piano è dello stesso tessuto fare anche una giacca e abbinare al pantalone sarà una giacca con manica tre quarti perché come sapete a me non piacciono le maniche lunghe quindi avremo una giacca di cotone dello stesso tessuto e anche la giacca andremo a fare la modellistica e la prova davanti alle telecamere così potrete vedere tutto ma adesso dedichiamo tutto il nostro tempo al taglio del nostro pantalone di tendenza numero 2 o tre metri di tessuto e adesso parleremo un po di come fare la messa su stoffa come piazzare il cartamodello vedrei molto bene una giacca o un pantalone largo fatto con questo cotone a righe e con una bella camicetta sarà un look bellissimo lo immagino già da adesso come sempre di idee le abbiamo mille ma per il momento torniamo al nostro pantalone abbiamo davanti a noi davanti del pantalone stiamo attenti di posizionare bene sul dritto filo sia al centro davanti che alla linea della piega controlliamo come sempre la distanza dalla linea alla cimosa io ho già controllato ma lo faccio un'altra volta come vedete la linea della piega va esattamente sul dritto la parte che abbiamo aperto per fare le pieghe va verso il lato e non ci crea problemi per il dritto filo l'importante è che la linea della piega vada sul dritto filo dopo l'apertura per le pieghe la linea dell'orlo non è più dritta questo non è un problema prendiamo il reghielo e disegniamo una bella linea dritta 3 4 millimetri in questo caso non cambieranno la linea del nostro pantalone abbiamo da fare la nostra linea ecco vedete dopo se serve accorciamo una linea dritta come vedete poi se servirà alla prova accorciamo senza problemi in questo modo abbiamo già il nostro davanti del pantalone posizionato sul tessuto vi ho detto come controllare il dritto filo e vi ho detto dell'orlo il posizionamento sulla stofa dipende anche se oltre al pantalone avremo un altro capo come nel nostro caso abbiamo anche la giacca per questo guardate qua è chiaro più che chiaro che un cartamodello come questo non ci sta sul tessuto con solita altezza 1 40 1 50 perché se dobbiamo rispettare il dritto filo per un pantalone largo il tessuto non basta se dovete cucire solo il pantalone comprando un metro e mezzo di tessuto di solito l'altezza non basta per questo pezzetto e di solito lo ritagliamo e aggiungiamo in seguito soprattutto se il tessuto è a righe come nel nostro caso questo è scamotage e invisibile non abbiamo alcun problema a fare così se invece avessimo un crepe in tinta unita allora sarà visibile e allora dobbiamo decidere quindi bisogna capire con quale tipo di stofa fatti nel mio caso io invece devo fare la giacca e visto che devo fare la giacca mi conviene posizionare il dietro in questo modo fisicamente posiziono il dietro in lunghezza subito dopo il davanti così uso la parte rimanente del tessuto per la manica per il colo eccetera adesso prima vado a tagliare il davanti poi sposto il tessuto e taglio anche il dietro perché non riesco a farle tutte e due voi guardate bene come faccio io se avessi dovuto fare solo il pantalone avrei fatto come vi ho già detto prima aggiungendo il pezzettino del cavallo sulla parte dietro ma siccome ho tessuto anche per la giacca mi conviene fare in questa maniera per quanto riguarda la linea della vita come abbiamo già detto nel modello numero uno avendo tolto due centimetri e non avevo aggiunto margine cucitura e mettendo poi il cinturino per la mia figura andava benissimo quindi avete visto come ho fatto ma adesso sto facendo un altro tipo di pantalone quindi non tolgo nessun centimetro dalla linea vita e andrò anche ad aggiungere 7 millimetri per il margine della cucitura ripeto dipende dal modello abbiamo la nostra base del pantalone e poi dopo andiamo a modificarla ogni modifica ha la sua logica per arrivare al modello desiderato se adesso aggiungo qualche millimetro nella linea vita è perché lo richiede il modello anzi andando verso il lato faccio meno di 7 mm perché abbiamo le pieghe verso il fianco faccio meno a volte ci arrivano delle domande nelle quali ci chiedete perché la parte dei fianchi non corrisponde uno è più l'angolo dell'altro di solito la risposta è nel cartamodello base se nel cartamodello base non corrispondono le lunghezze poi anche tutti i modelli che facciamo su quella base avranno una parte più lunga e una più corta vorrei fare un appunto anche su questa linea che si trova sotto la pata dovete stare attenti deve essere una linea bella rotonda ora vi faccio vedere come vi ho detto se i fianchi non combaciano guardate bene la base avete sbagliato qualcosa poi come ho già detto vi faccio un appunto dove dovete stare attenti qui in questo punto una bella linea rotonda a volte la tagliano quasi in diagonale e poi in questo punto il pantalone non sta bene vedete come deve essere curva lasciamo per il margine cucitura e io lascio di solito un centimetro mi raccomando è importante ripeto abbiamo un pantalone lungo abbiamo lasciato 5 centimetri per l'orlo e avrà anche una vita alta e da tempo che non mettevo pantaloni con vita alta l'ultimo paio di jeans che ho comprato poco fa ha una vita alta e mi piace molto potevo anche a non riprendere questo momento ma mentre taglio spiego sempre qualcosa quindi alla fine va bene così ragazzi non dimentichiamo la linea del ginocchio segnamola sempre poi facciamo delle piccole tacche perché se perdiamo la linea del ginocchio è come la stessa cosa la linea della vita in un corpino se queste tacche non corrispondono sapete che il nostro pantalone è andato e lo perde quindi mi raccomando siate precisi in questi momenti è importante segnare la linea del ginocchio con delle tacche il nostro davanti è pronto spostiamo il tessuto e andiamo a tallare il dietro ci avete chiesto se serve fare un imbastitura per segnare la linea della piega del dietro la risposta è no serve solo sul davanti se si è lavorato in modo preciso sul dietro non serve sul davanti dovete sempre essere in grado di capire se il dritto filo è al suo posto anche se non fate la piega l'occhio deve essere in grado di seguire la linea del dritto filo sul dietro non serve fare l'imbastitura serve però sempre avere la linea disegnata sul cartamodello e controlliamo la distanza dalla cimosa alla linea della piega sempre quando posizionate il cartamodello sul tessuto dovete assolutamente seguire il dritto filo il pantalone è un obbligo sapere dove il dritto filo anche se non lo fate segnato con il filo dovete avere presente dove è controlliamo la distanza dalla cimosa alla linea piega sono 22 5 centimetri ho controllato se è uguale su tutta la lunghezza e solo dopo posso mettere i spili per il momento faccio l'intera lunghezza poi se serve accorcerò vedete ho preso tutta la lunghezza e anche sul dietro ho segnato la linea del ginocchio me la riporto sul margine ritaglio la pace dietro la cosa più importante nel pantalone è rispettare il il dritto filo adesso iniziamo a tagliare ricordiamo che sulla vita sulla linea della vita aggiungiamo 7 mm sull'orlo non aggiungo niente perché ho già i 5 metri in più iniziamo anche questa ritaglio di fари, la vita sull'orlo non aggiungiamo un taglio e parliamo un po dalla linea del centro dietro del pantalone molto bene per quanto riguarda di questa linea vorrei dirvi che questo è l'unico posto dove potete lasciare qualche centimetro in più per sicurezza si possono lasciare due due e mezzo di margine in questa zona poi cucite sulla linea disegnata ma avete qualche centimetro in più che magari dopo la prova vi accorgerete che vi serve oppure in futuro questo è il punto dove serve se serve allargare è più facile farlo perché di solito sui fianchi ci sono le tasche sul davanti non è possibile perché c'è la cerniera quindi il centro dietro è il posto più adatto se serve allargare un po vi consiglio per sicurezza lasciare un paio di centimetri adesso trasferisco la pens poi faccio l'imbastitura sul centro davanti c'è la linea della piega della cerniera c'è il centro davanti e dobbiamo assolutamente sapere dov'è poi sulla linea della piega lo faccio per entrambe le parti del davanti non facciamo tutto davanti alla videocamera con tutte queste imbastiture il video diventerà troppo lungo quindi vi ho detto cosa bisogna fare non facciamo video troppo lunghi sennò uno si stanca non facciamo video ora comincio ad imbastire cosa ho fatto ho preparato il cinturino è alto 5,5 cm già piegato in due ho imbastito le pen sul dietro sul davanti ho fatto l'imbastitura sul centro davanti e sulla linea della stiratura vedete penso dietro imbastita e sul davanti ho ripassato la linea della piega e del centro davanti fatto questo adesso andiamo a fare le nostre pieghe per prima cosa ricordiamo che abbiamo aperto di 5 cm ma prendiamo 6 per ogni piega segno solo l'inizio della piega e da ogni segno misuro 6 cm e faccio delle piccolissime tacche per avere presente dove 3-4 mm non di più perché se fai troppo profondi e dopo escono fuori dal centurino piego il davanti rispettando il dritto filo sovrappongo le tacche e imbastisco a 3 cm dalla vita non mi piace quando la piega parte direttamente dal cinturino per questo faccio una cucitura di 3 cm in giù mi sembra una paracadute quando è troppo aperto questo certo è la mia opinione voi fate come volete io non amo proprio le pieghe che iniziano da subito preferisco fermarli un po' ovvio chi preferisce può farle come vuole importante seguire il dritto filo anche quando formiamo le pieghe fatta la prima piega a qualcuno piacciono le pieghe cucite verso il centro in questo modo è molto bello io in questo caso le voglio piegate verso il fianco così faccio qualche punto così la piega trova il suo posto e ripasso una volta anche la piega 3 cm dalla vita dopo faccio anche la seconda e la ripasso qui così la tengo ferma proprio alla prova come vedete non c'è nulla di complicato nel fare le pieghe dovete solo essere sicuri che le volete a volte i clienti dicono che vogliono le pieghe poi ci ripensano e ci chiedono di tollerle quindi prima di farle siete certi che le volete il mio consiglio è questo ed ecco la nostra prima piega è pronta ecco il dritto filo ed ecco il dritto il decolo rovescio adesso andiamo avanti con la seconda piega come abbiamo fatto prima mettiamo le due tacche una con l'altra ora rispettando sempre il dritto filo e misura i 3 cm dalla linea della vita vedete mi raccomando il dritto filo sempre rispettato e inizio ad imbastire e inizio ad imbastire mi raccomando se non siete sicuri che volete le pieghe non fatele è anche molto importante cucire la piega sulla linea vita per questo ci tengo a imbastire bene se non lo fate lasciate cadere cambia la linea della piega non cade bene quindi è importante fermarle anche per la prova perché non capirete niente già mi vedo con il nuovo completo nella mia vita non ho mai avuto così tanti pantaloni quanti ne avrò dopo queste lezioni ora guardiamo diamo un'occhiata veloce sembra molto bello qui avremo anche le tasche vedo di fare le pieghe anche sull'altro lato e poi ci rimane solo ad unire le parti lo faccio senza ripresa video ecco qui il davanti del nostro pantalone la linea della piega si vede le pieghe sono pronte e imbastite la linea del centro davanti imbastita è ben visibile su questa linea andremo a piegare e cucire la cerniera in seguito e sul dietro abbiamo imbastito le pence adesso unisco tutto e vi faccio vedere il pantalone alla prima prova penso che ormai sapete come si fa ed eccomi con il pantalone imbastito ricordo a tutti che stiamo cucendo un pantalone di tendenza dell'anno 2021 non è il solito pantalone che vediamo dappertutto è un nuovo modello e così saranno anche i prossimi voglio dirvi che non penso di andare in giro con la male dentro del pantalone l'ho messa dentro adesso solo per farvi vedere bene il modello e sopra avrò anche la giacca poi ci saranno anche le tasche e la situazione sui fianchi sarà diversa sul dietro non cambia nulla mi piace come sta probabilmente accorcerò di 2 cm e restringerò un po' la gamba ma non sono ancora sicura al 100% quando vi farò vedere il pantalone pronto vi dirò cosa ho fatto così poi potete anche voi avere un'idea se accorciare un po' o se lasciare 27 cm per la lunghezza sull'orlo al giorno di oggi è di moda anche avere un pantalone largo non troppo lungo come questo che ho appena fatto io ho scelto la variante più lunga per quanto riguarda la vita è da tempo che non ho avuto una vita alta mi sento bene e penso di lasciarla così non ho fatto come al solito togliere 2 cm dalla linea vita dalla mia base ma al contrario ho anche aggiunto qualche millimetro e ho fatto questa vita alta certo apro sopra la giacca e quando è finito il pantalone avrà un aspetto diverso rispetto adesso e con questo abbiamo già passato la parte della modellistica e messa su stoffa talio è la prima prova del modello 2 del pantalone costruito dal nostro cartomodello base mentre questo modello andrà nella sartoria noi con voi inizieremo il modello numero 3 e di nuovo parleremo con voi cosa e come fare con l'unico obiettivo che ognuno di noi trova il suo modello ideale del pantalone so benissimo che tutti vogliamo essere al passo con le tendenze e a volte abbiamo voglia anche di un modello che non ci sta proprio bene per questo siamo qui per imparare a trovare quel modello che ci dona di più proviamo i vari modelli e poi possiamo scegliere penso che un pantalone come questo con delle tasche e con una giacca sarà molto bello da vedere ve l'ho già detto faremo insieme anche la giacca e sarà una giacca semplice ma di effetto adesso vi saluto siete sempre diverse e fate con le vostre mani diversi modelli di pantaloni seguendo le nostre lezioni oppure aiutandovi con il nostro corso se una base non ce l'avete mettete i like se vi piacciono i nostri video condivideteli sui vostri social media iscrivetevi al nostro canale e comprate i nostri corsi iscrivetevi anche al nostro Instagram perché no con voi siamo stati noi Pau Styrina Mihailovna e tutto il nostro team alla prossima con tante altre novità per oggi vi saluto grazie a tutti grazie a tutti